Mafia, Camorra e Andrangheta, alleate per mettere le mani sul mercato ortofrutticolo di fondi. Una tesi confermata dalla sentenza di primo grado, arrivata poco prima di Natale, dai giudici del Tribunale di Latina. 110 anni di carcere per imprenditori e amministratori locali, condannati insieme a due esponenti di un clan dell'Andrangheta calabrese. Per sette di loro è stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso. Da anni, Vasso Lazio è terra di conquista delle organizzazioni criminali, che stringendo alleanze con la malavita locale hanno dato vita a quella che libera l'associazione di Don Luigi Ciotti, definisce quinta mafia. L'interagire tra queste forze dà di fatto un soggetto nuovo, un soggetto che nasce qui nel Lazio, che si sta espandendo in tutta Italia, che è la dimostrazione della forza contaminatrice delle mafie quando vengono prima negate e poi sottovalutate nella gira. A confermare gli interessi della criminalità organizzata nel Pontino ci sono anche i dati del rapporto Eco-Mafia 2011 di Lega Ambiente. La provincia di Latina è ottava a livello nazionale per i crimini contro l'ambiente, addirittura quarta per quanto riguarda gli abusi edilizi e non si salva neanche il Parco Nazionale del Circeo, con 1.200.000 metri cubi di cemento versati senza regole. Nel Parco Nazionale del Circeo c'è un sistema di diffusa illegalità che si è perpetrato per decenni. Parliamo di due abusi edilizi per ogni ettaro nell'area protetta, un territorio che dovrebbe essere presidiato notte e giorno, dove tutto dovrebbe essere fatto alla luce del sole e invece alla luce del sole e anche di notte vengono realizzate strutture abusive. Ma gli interessi delle Eco-Mafie ruotano soprattutto attorno al ciclo dei rifiuti. Il pentito Carmine Schiavone ha parlato di rifiuti tossici che sarebbero stati sotterrati nella discarica di Borgo Montello, alle porte di Latina e proprio qui nel 1995 fu ucciso e incaprettato Don Cesare Boschin, il parroco del Borgo, dalla cui finestra probabilmente aveva visto troppo. C'era il mercato della droga che praticamente c'era questo mercatino dove si rifornivano i pusher che poi andavano a venderla in giro, proprio sulle finestre della sua camera. Da questa parte, su quel piazzale, gli scambi di droga tra spacciatori. Di là, oltre questa baracca, la discarica. Questo avrebbe visto Don Cesare Boschin dalla sua finestra, quella che oggi ha le persiane chiuse. Ma non fu l'unico testimone dei movimenti notturni di camion che avrebbero trasportato nella discarica di Borgo Montello carichi di rifiuti tossici. Molte persone hanno collaborato, hanno visto. Anch'io ho visto non direttamente l'interramento, però i trasporti sì. Alcuni camion venivano direttamente dall'estero, avevano targhe stranieri. La provincia di Latina è tra le prime in Italia anche per la confisca di beni alla criminalità, ma le mafie non mollano e provano a intimidire, come è accaduto al villaggio della legalità di Libera, a Borgo Sabotino. Pensate a Pasolini, a Moravia, alle architetture disegnate da Giorgio De Chirico, ma anche ad altri personaggi, a Bertolucci, Antonioni, Dacia Maraini, Elsa Morante, Mario Schifano. In questa piazza tra portici e caffè passeggiavano e si ritrovavano un tempo questi personaggi. Adesso su, in Consiglio Comunale, si respira a volte un'atmosfera pesante. Ci sono inchieste sui giornali, inchieste della magistratura, si discute tanto. Che cosa è diventata? Questo segmento di nuova città fondata nel 1934 è abitata dai coloni arrivati dal Veneto, da Ferrara. Che cosa è diventata questa città? Marizzolucci è sindaco di Sabaudia, questo è il suo ufficio, ufficio razionalista come razionalista è l'architettura di Sabaudia. Ma è possibile che Sabaudia sia finita in mano alla mafia, come si legge? No, assolutamente no. C'è una tensione da parte di chi vuole intervenire su questo territorio e noi stiamo facendo del tutto, insieme con gli organi istituzionali, prefetto e forze dell'ordine, a preservare la Sabaudia da queste infiltrazioni. È complicato, è difficile, ma noi non possiamo non abbassare la guardia. Addirittura si parla di infiltrazioni del Consiglio Comunale, ci sono nomi, cognomi, ingherizi? No, infiltrazioni del Consiglio Comunale non ci sono infiltrazioni, perché il processo di Napoli, ultimo, ha chiarito che non c'è infiltrazione camorristica. Sono conti pendenti, diciamo così. Sì, prima di fare un processo al Consiglio Comunale bisogna attendere la conclusione di certi passaggi. Però l'attenzione che ha la città di Sabaudia è quella di evitare qualsiasi infiltrazione, qualsiasi azione illegale su questo territorio. Antonio Turri è il referente di Libera nel Lazio. Sì, e questa è una zona ricca. Qui c'è stato un vero e proprio interesse da prima a reinvestire soldi, soldi sporchi, tanti soldi soprattutto nel ciclo del cemento e nel turismo. Successivamente si sono interessati a una vera e propria presenza, al controllo del territorio. Qui sono stati confiscati beni a famiglie autottone per reati di usura, anche con metodo mafioso. Ci sono insediati clan della Camorra e clan dell'Andrangheta. Sono stati sequestrati beni al clan Mallardo, terreni. Sono confiscati qui per abusivismo edilizio tutta una serie di immobili di prestigio. Qui si parla di appetiti pesanti da parte di costruttori arrivati addirittura, si parla di gente arrivata dal casertano a mettere su attività. Guardi, l'ufficio tecnico di Sabaudia, che rilascia i permessi a costruire congiuntamente con l'ufficio tecnico del parco, l'attenzione nostra è quella di mandare, quando ci sono interventi che hanno chiaramente un sospetto, di informare gli organi istituzionali per avere gli accertamenti, di più non possiamo fare. In caso anche a prezzi stracciati che poi spesso finiscono all'asta ed in questi casi può succedere che arrivi qualcuno con grosse quantità di denaro che in un posto bello come Sabaudia decida di comprare qualche casa oppure qualche megavilla, è successo, anche in zone considerate VIP oppure di fare investimenti ancora più grossi. Facciamo un salto in redazione, Alessia. Sì, Beppe, siamo qui in redazione con Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, anche del gruppo Abele che quest'anno compie 45 anni di tradizione di accoglienza sulla strada. Don Ciotti, abbiamo visto questi esempi di come la criminalità organizzata tenta sempre più di intaccare anche il patrimonio naturalistico, attentando ai parchi. Come mai? La criminalità, dove annusa che può fare affari, denaro, penetrare nel territorio, controllare, guadagnare, guadagnare tanto, occupa quei segmenti e quindi l'ambiente è uno dei segmenti importanti, le eco-mafie, il traffico dei rifiuti, la penetrazione nei parchi, l'agroalimentare, ricatti al mondo dell'agricoltura. Le mafie ci sono e hanno trovato un modo di espandersi sempre di più per fare i loro comodi, i loro affari, i loro giochi, i loro interessi. Poi il parco del Circeo è una meraviglia e quindi in questo senso una loro presenza in questo basso Lazio che ha una dimensione geografica con l'alto casertano e guarda caso in quel territorio è nata proprio la quinta mafia che noi la rivediamo veramente, sono queste grandi dimensioni criminali e mafiose e ci sono tutte, l'Andrangheta, la Camorra, c'è la presenza anche di Cosa Nostra sul mercato di fondi e non solo, che si sono messe insieme con la criminalità del luogo è nata questa nuova espressione e l'obiettivo resta uno, potere, denaro e tanto denaro. Rolando Mulas ci parla di un piccolo paesino in provincia di Chieti, Roio del Sangro, che d'inverno è quasi abbandonato dai turisti, pochi residenti e gli sciacalli disboscano persino i terreni di proprietà privata incustoditi. Ecco, è una battaglia contro piccoli criminali, Libera si occupa di una criminalità ben più grossa ma il principio è lo stesso, salvare il territorio. Vabbè, signori, 26.500 costruzioni abusive nel 2010 accertate in Italia sono una delle denunce che ci inquietano profondamente perché vanno a discapito rispetto della tutela dell'ambiente, sono forme di illegalità, a parole tutti parlano di ripristinare questa tensione, in realtà tutto questo continua a venire alla luce del sole. Allora qui anche i responsabili nel vario territorio non si dichiarano esempi dal vigilare, da controllare. Chi ha un ruolo di amministratori, compito difficile, che merita stima e supporto, non si può sempre pensare che siano sempre degli altri delle responsabilità e quindi io credo che rispetto a tutta una serie di legalità che vengono a formarsi sul territorio, chi ha quell'honor lì deve ammetterci più naso, più teste e soprattutto deve contribuire e anche i cittadini devono contribuire con responsabilità a segnalare le cose che non vanno bene. Ma questa situazione che continua a ripetersi con forza del nostro Paese, ebbè, signori, deve porci una serie di domande. Ecco, riprenderemo più avanti nella trasmissione questi temi. Per adesso la linea può tornare.